Cinque paesi d'Abruzzo, ricchi di storia, tradizione e talenti, si sfidano nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Cavalieri su cavalli e scultori, una stella da centrare al galoppo con una lancia tra ali di folla, una chimera sannita come premio. Sono gli ingredienti del Palio della Stella, che si rinnova a Villetta Barrea per la tredicesima edizione, sabato 6 luglio, al Pratone Graziani. Appuntamento alle ore 17 a Parco San Giuseppe di Villetta Barrea, con il tradizionale corteo dei cavalieri, accompagnati quest'anno dagli sbandieratori del borgo di Santa Maria della Tomba di Sulmona. Alle 17.30 inizierà la vincente sfida, scenderanno in campo i cavalieri di Scanno, vincitrice delle ultime tradizioni, di Anversa degli Abruzzi, di Civitella Alfedena, di Barrea e ovviamente di Villetta Barrea. La gara consiste nel centrare al galoppo una stella appesa nel mezzo della pista, da cui il nome del Palio, con una lunga lancia. Il trofeo del Palio raffigura la chimera, simbolo del popolo sannita, di cui le montagne di Villetta Barrea furono patria. Un disegno antichissimo, che è sintesi di un cavallo e di una creatura lata, che decorava il Cardio Filax, lo scudo corazza dei guerrieri sanniti. Al termine del Palio, l'appuntamento è a Piazza Fratelli Virgilio, per una serata di musica con repertorio dagli anni 60 agli anni 90, balli e pietanze locali. L'evento, ad ingresso gratuito, è a cura dell'Associazione Pietra Mara, che organizza anche altri eventi di successo a Villetta Barrea, come ad esempio il Carnevale della Pupatta, le Mini Olimpiadi dei Bambini, l'ultimo sabato di luglio, il Corteo della Dodda, la rievocazione del trasporto dell'antico Corredo Nuziale, l'ultimo sabato di agosto, il presepe vivente il 29 dicembre nei vicoli e nelle piazze di un paese famoso nel mondo per i cervi, che liberamente lo frequentano e la natura incontaminata intorno al lago.